E' stato denunciato per detenzione abusiva di proiettili, 49 in tutto, proiettili per pistole che non erano state denunciate. Sparavano ai volatili, questo il senso della telefonata che è arrivata in questura, dai vicini di casa di due uomini che in una proprietà privata sparavano in contrada Misteci, Besaro. Gli uomini delle volanti, dopo aver identificato gli uomini proprio nella proprietà privata, che hanno negato di stare sparando ai volatili, il 35enne possedeva delle armi e munizioni che erano normalmente detenute. E invece ha riferito che stava soltanto provando le armi. Gli uomini delle volanti hanno poi trovato in un sacchetto 49 proiettili per pistole di diverso calibro non denunciati, di proprietà appunto del 34enne. L'uomo in via di precauzione ha avuto sequestrate le armi regolarmente detenute ed è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni.